Parte 2. Lance ardenti. L'uomo a cui piacevano i film. Giorno del giudizio. L'uomo che saluta. I ragazzi sotterranei. Disciplina e controllo fanno l'uomo. Charter. 6. 17 luglio. 4.40 IDT. New York City. «E' ancora lì dentro, vero?» chiese la donna di colore con i capelli arancioni con un sussurro. E il ragazzo ispanico dietro il bancone dei dolci annuì. «Ascolta», disse il ragazzo, che si chiamava Emiliano Sanchez, e i suoi occhi scuri si allunghavano. allargarono. Da dietro le tende di un rosso sbiadito, che portavano nella sala dell'Empire State Theater sulla 42esima strada, proveniva una risata. Era il suono che avrebbe potuto fare qualcuno con la gola squarciata. Il suono diventò più forte e acuto, ed Emiliano si mise le mani sulle orecchie. La risata gli aveva fatto ricordare il fischio di una locomotiva e l'urlo di un bambino. e per qualche secondo tornò indietro nel tempo, a quando aveva otto anni e viveva a città del Messico. A quando aveva visto suo fratello travolto e ucciso da un treno merci. Cecili lo fissava, e quando la risata aumentò di volume, vi sentì l'urlo di una ragazza. E lei aveva di nuovo 14 anni, e si trovava sul lettino del medico abortista al lavoro finito. La visione sparì in un istante, e la risata iniziò a svanire. «C'è su Cristo!» riuscì a dire Cecili, sussurrando di nuovo. «Che sta fumando quel bastardo?» «Lo sto sentendo da mezzanotte», le disse il ragazzo. Il suo turno era iniziato alle 12 e sarebbe continuato fino alle 8. «Hai mai sentito qualcosa del genere?» «E' da solo lì dentro?» «Sì, alcune persone sono entrate, ma nemmeno loro riescono a sopportarlo. Diamine, avresti dovuto vedere le loro facce quando sono uscite, da farti venire i brividi.» «Merda!» disse Cecili. Lei vendeva i biglietti, e lavorava nel chiosco all'esterno. «Io non riuscirei a guardare due minuti di quel film con tutti quei morti e roba del genere. Dio santo! Ho venduto i biglietti a quel tizio tre proiezioni fa!» «È uscito, ha comprato una coca grande e popcorn imburrati. Mi ha lasciato un dollaro di mancia. Ma ti dirò, quasi non volevo toccare il denaro. Sembrava unto o qualcosa del genere.» «Il bastardo probabilmente si sta facendo un lavoretto. Forse guarda tutti quei morti con le facce devastate e si fa un lavoretto. Qualcuno dovrebbe entrare e dirgli...» La risata crebbe di nuovo. Emiliano trassalì. Adesso il rumore gli ricordava l'urlo di un ragazzo che una volta aveva accoltellato in pancia durante una rissa. La risata si spezzò e gorgogliò, diventando un morbido sussurro che ricordò a Cecili i suoni che i drogati facevano nella stanza del buco che frequentava. Il volto della ragazza restò paralizzato fino a quando la risata non svanì. E poi disse «Credo di avere da fare». Si voltò e tornò di corsa alla biglietteria, dove chiuse la porta a chiave. Aveva immaginato che il tizio nel cinema sarebbe stato strano nel momento in cui lo aveva visto. Era un uomo alto e robusto, dall'aspetto svedese, con capelli biondi e ricci, la pelle bianca come latte e occhi come braci di sigarette. Quando aveva comprato il biglietto, l'aveva perforata con lo sguardo senza dire una parola. Strano, aveva pensato. E aveva preso la sua coppia di People con dita tremanti. «Forza fa che arrivino presto le otto!» implorò Emiliano. Controllò il suo orologio da polso. Tra qualche minuto, The Face of Death Path 4 sarebbe finito e Willy, il vecchio proiezionista ubriacone, avrebbe cambiato le bobine al piano di sopra con Mondo bizzarro che mostrava scene di bondage e roba del genere. Forse il tizio se ne sarebbe andato al cambio del film. Emiliano sedette sul suo sgabello e continuò a leggere il suo fumetto di Conan tentando di respingere i brutti ricordi che erano stati richiamati dalla risata che veniva da dentro. Le tende rosse si mossero. Emiliano incurvò le spalle come se lo stessero per colpire. Poi le tende si aprirono e l'uomo a cui piacevano i film entrò nella squallida lobby. «Se ne sta andando!» Emiliano quasi sorrise con lo sguardo incollato al fumetto. «Sta uscendo dalla porta!» Ma l'uomo a cui piacevano i film disse con una voce morbida e quasi infantile. «Vorrei una coca grande e un secchiello di popcorn imburrati, per favore!» Lo stomaco di Emiliano si strinse. Senza permettere a se stesso di guardare il volto dell'uomo si alzò dallo sgabello, spillò la coca dall'erogatore, prese i popcorn e vi versò sopra il burro. «Altro burro, per favore!» richiese l'uomo a cui piacevano i film. Emiliano versò dell'altro burro sui popcorn e li spinse sul bancone insieme alla coca. «Tre dollari», disse. Una banconota da cinque dollari fu spinta verso di lui. «Tieni il resto», disse l'uomo. E questa volta la sua voce aveva un accento del sud. Sorpreso, Emiliano alzò gli occhi. «L'uomo a cui piacevano i film era alto un metro e novanta e indossava una maglietta gialla e dei pantaloni verdi. Sotto le spesse sopracciglia nere, i suoi occhi erano di un verde ipnotico in mezzo al colore ambrato della sua pelle. Emiliano lo aveva già inquadrato come sudamericano quando era entrato, magari anche con del sangue indiano. I capelli dell'uomo erano neri e ondulati, tagliati a filo del cranio. Stava fissando Emiliano. «Voglio vedere il film di nuovo», disse Piano. E nella sua voce c'era di nuovo quello che poteva sembrare un accento brasiliano. «Tra un paio di minuti inizierà Mondo Bizzarro. Il proiezionista forse ha già messo la prima bobina». «No», disse l'uomo a cui piacevano i film e sorrise leggermente. «Voglio vedere di nuovo quel film». Subito. «Sì, beh, ascolti, voglio dire, non prendo io le decisioni qua, ok, capisce? Io lavoro solo dietro al bancone, non ho voce in capitolo su...» E a quel punto l'uomo allungò una mano e toccò la faccia di Emiliano con dita fredde e unte di burro. E la mascella del ragazzo si bloccò, come se fosse stata congelata. Il mondo sembrò vorticargli intorno per un secondo e le sue ossa erano una gabbia di ghiaccio. Poi sbatté le palpebre, tutto il suo corpo tremò e si trovò dietro al bancone e l'uomo a cui piacevano i film era sparito. «Dannazione!» pensò. «Il bastardo mi ha toccato!» Afferrò un fazzoletto di carta e si strofinò il volto dove lo avevano toccato le dita. Ma riusciva ancora a sentire il gelo che avevano lasciato. La banconota da cinque dollari era ancora sul bancone. Se la mise in tasca, uscì dalla sua postazione e sbirciò tra le tende nella sala. Sullo schermo, con i suoi colori gloriosi e sanguinolenti, c'erano corpi bruciati tirati fuori da rottami di auto dai vigili del fuoco. Il narratore stava dicendo «The face of death non tratterrà nessun colpo. Tutto quello che vedrete sarà reale. Se siete schizzinosi per una qualsiasi cosa, adesso dovreste uscire». L'uomo a cui piacevano i film era seduto in prima fila. Emiliano riusciva a vedere il contorno della sua testa contro lo sfondo dello schermo. Iniziò la risata e mentre Emiliano tornava sui propri passi, allontanandosi dalla tenda, guardò il suo orologio senza parlare e si rese conto che quasi venti minuti della sua vita erano un buco nero. Attraversò una porta e salì la rampa di scala fino alla stanza di proiezione in cui Willy era strabaccato su un divano a leggere Hassler. «Ehi!» disse Emiliano. «Che succede, amico? Perché stai facendo vedere di nuovo quella merda?» Willy lo fissò per un momento da sopra alla rivista. «Stai dando i numeri, ragazzo?» domandò. «Tu e il tuo amico siete appena venuti a chiedermi di farlo. Neanche quindici minuti fa. Quindi l'ho rimesso. Non me ne frega un cazzo tanto in un modo o nell'altro. Comunque, io non mi metto a discutere con i vecchi pervertiti.» «Vecchi pervertiti? Di che stai parlando, amico?» «Del tuo amico», disse Willy. «Deve avere settant'anni. La barba lo fa somigliare a Rip Van Winkle. Da dove arrivano questi pervertiti?» «Tu sei pazzo», sussurrò Emiliano. Willy fece spallucce e tornò alla sua lettura. All'esterno, Cecilie alzò lo sguardo mentre Emiliano correva in strada. Lui le lanciò un'occhiata e gridò «Io non ci resto là dentro! Assolutamente! Mi licenzio!» e scappò via lungo la quarantaduesima, sparendo nel buio. Cecilie si fece il segno della croce, controllò di nuovo la serratura della porta della biglietteria e pregò che arrivasse l'alba. Seduto al suo posto in prima fila, l'uomo a cui piacevano i film infilò una mano nei suoi popcorn imburrati e si riempì la bocca. Davanti a lui, si svolgevano scene di corpi spezzati, estratti dalle macerie di un edificio di Londra fatto esplodere da terroristi irlandesi. Inclinò la testa da un lato, apprezzando la vista di ossa spezzate e sangue. La camera, annebbiata e instabile, si focalizzò sul volto convulso di una giovane donna mentre collava un bambino morto. L'uomo a cui piacevano i film rise come se stesse guardando una commedia. Nel suono di quella risata c'era l'urlo delle bombe al napalm, dei razzi incendiari e dei missili Tomahawk. Riecheggiò nella sala e se ci fossero state sedute altre persone, ciascuna di esse si sarebbe agitata per il ricordo di un terrore personale. E nella luce riflessa dello schermo il volto dell'uomo stava subendo una trasformazione. Non sembrava più svedese, brasiliano e non aveva più una barba grigia come Rip Van Winkle. I suoi lineamenti si stavano fondendo come una maschera di cera che si fonde lentamente con le ossa che si spostavano sotto la pelle. Le fattezze di cento facce si sollevarono e ricaddero come piaghe suppuranti. Quando lo schermo mostrò un'autopsia ripresa in prima persona l'uomo batte le mani con gioia allegra. È quasi ora pensò è quasi ora che inizi lo spettacolo. Stava aspettando da molto tempo che si alzasse il sipario. Aveva indossato molte pelli e molte facce e il momento era vicino molto vicino. Aveva guardato la corsa verso la distruzione attraverso molti occhi aveva odorato il fuoco e il fumo e il sangue nell'aria come profumi inebrianti. Il momento era vicino e il momento sarebbe appartenuto a lui. Oh sì è quasi ora che inizi lo spettacolo. Era una creatura paziente ma adesso riusciva a stento a trattenersi dal ballare. Forse una breve danza vattussi nella corsia sarebbe andata bene e poi avrebbe schiacciato quello scarafaggio dietro al banco dei dolci. era come aspettare una festa di compleanno e quando le candele sarebbero state accese lui avrebbe gettato indietro la testa e avrebbe ruggito abbastanza forte da impressionare Dio. Era quasi ora era quasi ora ma si chiese dove sarebbe iniziata. Chi avrebbe premuto il primo pulsante? Ma non era importante poteva quasi sentire la miccia crepitare e la fiamma avvicinarsi. era la musica delle alture del Golan di Beirut e Teheran di Dublino e Varsavia di Johannesburg e del Vietnam solo che questa volta la musica sarebbe terminata in un crescendo assordante. Infilò dei popcorn nella bocca che si apriva avida sulla sua guancia destra. Inizia la festa pensò e ridacchiò con un suono che sembrava quello del vetro in una macina. La notte prima era sceso da un autobus della Trailways in arrivo da Philadelphia e passeggiando sulla quarantaduesima strada aveva visto che davano questo film. Sfruttava l'occasione di ammirare le sue azioni in The Face of Death Part 4 ogni volta che poteva. Era solo sullo sfondo naturalmente sempre parte della folla ma riusciva sempre a riconoscersi. C'era una buona ripresa di lui sopra un mucchio di cadaveri dopo l'esplosione in uno stadio di calcio in Italia dove sembrava convenientemente scioccato. Un'altra breve ripresa lo mostrava con addosso una faccia diversa durante un massacro nell'aeroporto di Parigi. Di recente era stato in giro viaggiando con l'autobus di città in città per vedere l'America. C'erano così tanti gruppi terroristici e teste calde armate in Europa che la sua influenza era quasi non necessaria anche se gli era piaciuto aiutare a piazzare quella bella bomba potente a Beirut. Era rimasto per un po' a Washington ma nessuno dei cinema locali stava dando The Face of Death Part 4. Comunque Washington offriva moltissime possibilità e quando ti mischiavi e mescolavi con i tipi del pentagono e con i membri del gabinetto a qualcuna di quelle feste non sapevi mai cosa avresti potuto suscitare. Stava accadendo tutto velocemente adesso per lui. Percepiva le dite nervose sospese sui pulsanti rossi in tutto il mondo i piloti di caccia sarebbero stati impazienti di agire i comandanti dei sottomarini avrebbero ascoltato i loro sonar e i vecchi leoni sarebbero stati ansiosi di mordere. E la cosa straordinaria era che stavano facendo tutto da soli. Questo lo faceva quasi sentire inutile ma il suo ruolo da protagonista sarebbe arrivato molto presto. La sua unica preoccupazione era che non sarebbe finita ancora nemmeno con tutti i fulmini che presto si sarebbero abbattuti. Sarebbero rimaste ancora sacche di umanità e piccole città che lottavano per sopravvivere nell'oscurità come ratti in un seminterrato collassato. Capiva molto bene che le tempeste di fuoco i vortici di radiazioni e la pioggia nera ne avrebbero distrutto la maggior parte e che quelli che sarebbero rimasti avrebbero desiderato essere morti mille volte e alla fine avrebbe eseguito la danza avatussi anche sulle loro tombe. Era quasi ora tic toc tic toc pensò niente può fermare l'orologio. Era una creatura paziente ma era stata un'attesa lunga. Qualche ora in più non avrebbe fatto altro che stuzzicare il suo appetito e lui era molto molto affamato. Per il momento poteva divertirsi a guardare questo bel film il sipario si sta alzando pensò e la bocca al centro della sua fronte ghignò prima di scomparire nella carne come un verme grigio nel terreno umido. Inizia lo spettacolo e la bocca